Qui avete un bel gruppo che è stato in Portogallo al Congresso Mondiale dei Biodistretti. Un appuntamento di grande rilievo culturale si è tenuto presso il suggestivo Palazzo di Lorenzo, a Ceraso, dove nel contesto del progetto Agora Mediterranea è stato presentato il nuovo libro di Raffaele Basile, giornalista, pubblicista e magistrato intitolato Camminare negli ecosentieri interiori. L'evento ha visto una significativa partecipazione, sottolineando l'importanza del tema trattato da Basile, che esplora il rapporto profondo tra l'uomo e la natura attraverso un viaggio introspettivo nei sentieri interiori che ciascuno di noi è chiamato a percorrere. Un'opera che non si limita alla riflessione personale, ma che invita una consapevolezza ambientale e sociale. La presentazione del libro è stata ulteriormente arricchita dalla presenza degli amministratori locali di entrati dal Portogallo, dove hanno partecipato al secondo congresso mondiale dei biodistretti. Un'occasione che ha rafforzato i legami internazionali e permesso di scambiare esperienze e buone pratiche con altre realtà impegnate nella stessa direzione, presentando delle interessanti novità. Oggi è una serata lunga perché poi abbiamo anche il bioaperitivo dopo la presentazione del libro, ma lasciatemi spendere solo due parole per introdurvi una tematica importante per noi della guerra mediterranea, dei biodistretti. Ogni 5 anni si svolge il congresso mondiale dei biodistretti, sono ben 1300 nei 5 continenti e ogni anno invece si svolge il summit mondiale, quindi il summit serve per prendere le decisioni politiche, il congresso per confrontarsi tra tutti gli attori dei biodistretti. Quest'anno è stato particolarmente interessante perché abbiamo potuto lanciare un'azione per un turismo globale, un ecoturismo lento, adatto ai biodistretti perché i biodistretti vanno scoperti piano piano con i ritmi della natura, conoscendo le comunità locali e l'importanza di questo programma che abbiamo chiamato Grand Tour Bio che prevede tappe nei principali biodistretti, in particolare europei, asiatici, africani e dell'area del Pacifico, ma in futuro anche in altri territori e che è un circuito che permette anche di fare attività formativa. Sì, in questo congresso abbiamo presentato ufficialmente il passoporto per la visita dei biodistretti nel mondo. Era già in atto una serie di visite nel nostro territorio per chi volesse diventare il biodistretto, ma adesso lo certifichiamo con un passaporto che viene consegnato al Palazzo di Lorenzo da parte di Agora Mediterranea e dal biodistretto Cilento, qui a Ceraso. Chi vuole avviare la propria visita, il proprio cammino per i biodistretti del mondo deve venire a Ceraso, gli viene consegnato il passaporto e quindi da questo momento possono partire alla scoperta di tutti i biodistretti nel mondo. Ovviamente questo vale per i nostri cittadini nel nostro territorio, ma vale soprattutto per i cittadini dei 1.300 territori nel mondo, in tutti i continenti sono presenti e sono previste già visite a settembre, ai prossimi mesi di ottobre, novembre, che verranno dall'Asia, dall'India e da altre località europee, partendo qui dal Cilento per la loro conoscenza del biodistretto, del nostro biodistretto, per poi poter visitare gli altri oppure per creare biodistretti in altre zone del mondo.